cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago benvenuti al meteo alta pressione sempre brand presente sull'italia bel tempo e clima molto mite sul nostro territorio vediamo il dettaglio di giovedì 6 ottobre sul veneto avremo un ampio soleggiamento non sono previste precipitazioni la stabilità atmosferica favorirà il ristagno di un po di umidità a quote medio basse in particolare su pianura e sulle valli sarà possibile qualche locale nebbia temperature gradevoli minime tra 10 e 14 gradi massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso al mattino cielo sereno o poco nuvoloso specie sulle zone montane più sereno invece altrove temperature minime intorno ai 14 17 gradi massime sui 21 23 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige avremo locali nubi basse al mattino poi decisamente più soleggiato temperature minime intorno ai 10 12 gradi massime sui 25 gradi all'incirca dunque molto gradevoli dal meteo di antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago